Anna come sono tante Anna per malose Anna bello sguardo Sguardo che ogni giorno Perdi le cose Si chiude gli occhi Lo sai Stella di periferia Anna con le amiche Anna che vorrebbe andar via E la luna è una palla Il cielo è un miliardo Quante stelle nel flippo Sono più di un miliardo Marco dentro a un bar Buongiorno ragazzi Ben ritrovati a questo nuovo tutorial Oggi andiamo a vedere Un altro brano Del maestro mitico inarrivabile Lucio Dalla Anna e Marco Brano Ecco senza troppi passaggi complicati Non ci sono intro Non ci sono intro particolari da eseguire Al piano Basta semplicemente Ricordare Gli accordi Che adesso vi vado a mostrare Ok Quindi ci sono due strofe La prima appunto Quella che parla di Anna La seconda che parla di Marco E poi c'è il ritornello Ok La prima e la seconda strofa Sono del tutto identiche Quindi ve le faccio vedere Chiaramente una volta Perché poi vanno ripetute E poi vi faccio vedere il ritornello Andiamo a vedere la prima strofa Anna come sono tante Anna per malosa Anna bello sguardo Sguardo che ogni giorno Anna come sono tante Anna per malosa Anna bello sguardo Sguardo che ogni giorno Perdo qualcosa Se chiude gli occhi Lì lo sa Stella di periferia Anna con le mic Anna che vorrebbe andarvi Quindi iniziamo subito Con un Si bemolle Quindi andiamo a vedere la mano destra Gli accordi sono da imparare Sono Si bemolle Do minore Mi bemolle Fa E che altro E Sol minore Quindi anche in questo caso Sono cinque accordi da imparare Ok Andiamo a vedere il primo Il primo è un Si bemolle Quindi abbiamo appunto un Si bemolle Sulla mano destra Sul primo tasto Un Re E un Fa Ok Con la mano sinistra Vado ad accompagnare Le root note Anzi che la faccio vedere dopo la mano sinistra Andiamo prima a vedere gli accordi Quindi Si bemolle è questo qui Ok? Si bemolle Re Fa Secondo accordo Do minore Do Re Diesis Sol Secondo accordo Terzo accordo Mi bemolle Appunto abbiamo un Mi bemolle Un Sol E un La Diesis Ok Terzo accordo Quarto accordo Fa E il quinto accordo È un Quindi Fa Maggiore Fa La Do Quinto accordo È un Sol minore Sol La diesis Re Quindi come vanno combinati Vanno combinati in questa maniera Primo accordo Si bemolle Anna come sono tante Primo accordo Secondo accordo Do minore Anna per malosa Terzo accordo Mi bemolle Anna per lo sguardo Fa Sguardo che ogni giorno Perde qualcosa E ritorno sul E ritorno sul Si bemolle Se chiude gli occhi Le lo sa Sol minore Stella di Periferie Mi bemolle Anna con le mi che fa Anna che vorrebbe andar via E poi chiudo col si bemolle Ok Quindi in sostanza Ricapitolando abbiamo Si bemolle Sol minore Mi bemolle Da capo fa Anna Anna Si bemolle Si segue i bassi Delle note principali Ad eccezione Dei primi due accordi E degli ultimi due accordi Dove suona soltanto Il Dove suona soltanto Questo Questo Quindi il si bemolle Quindi quando andiamo a toccare A prendere il si bemolle E quando andiamo a prendere Il Do minore Sia all'inizio Che alla fine della strofa Siamo sempre Con la mano sinistra Sul Sul si bemolle Ok Poi Mi bemolle Fa Da capo si bemolle Sol Mi bemolle Da capo fa Ok Quindi andiamo a vedere Combinato So Quindi qui l'unica veramente particolarità è che a un certo punto quando andiamo a suonare il Sol minore andiamo a fare questo, d'accordo? Perché nella canzone si ripete Se chiude gli occhi lei lo sa Stella D, quindi semplicemente andiamo a fare questo abbellimento Molto semplice Sguardo che un giorno perde qualcosa Se chiude gli occhi lei lo sa D'accordo Stella D, periferia Chiudiamo come avevo detto così Si bemolle Do minore Si bemolle Do minore, quindi due volte La strofa con Marco, grosse scarpe e poca carne è esattamente la stessa Quindi anche in questo caso va eseguita nella stessa maniera E poi c'è il ritornello Quindi il ritornello come fa? Andiamo a prendere innanzitutto gli stessi accordi che abbiamo visto prima però ovviamente in maniera diversa E il ritornello fa così E la luna una palla ed il cielo un miliardo Quante stelle nel flipper sono più di un miliardo Marco dentro a un bar Che sa cosa farà E c'è qualcuno che arriva a una moto Si può andare in città Quindi La mano destra cosa fa? La mano destra fa suonare un Fa maggiore Quindi Fa, La, Do E la luna una palla Poi Do minore Do, Re diesis, Sol E il cielo un miliardo Questo va fatto due volte Quante stelle nel flipper Fa sono più di un miliardo Ok, quindi due volte Poi Mi bemolle Marco dentro a un bar Fa Quindi Mi bemolle Marco dentro a un bar Fa Il Fa lo potete prendere in posizione fondamentale O con questo rivolto qui E' essenzialmente la stessa cosa Quindi prendiamolo in una posizione normale Marco dentro a un bar Non sa cosa Quindi Do minore Fa Non sa cosa farà Ok, quindi da capo Marco dentro a un bar Fa Do minore Non sa cosa farà Da capo Fa Siccome ho suonato il Do minore Questo Fa lo posso andare a prendere In questa maniera Quindi Do, Fa, La Non sa cosa farà Poi da capo Mi bemolle Ma c'è qualcuno che arriva a una moto Si può andare in città E poi ritorniamo sul Si bemolle Che è questo qui Quindi rivediamolo E la luna è una palla E il cielo è un miliardo Quante stelle nel flipper Sono più di un miliardo Marco dentro a un bar Chissà cosa farà C'è qualcuno che arriva a una moto Si può andare in città Ok Mano sinistra Quindi la mano sinistra è importante dare enfasi al primo accordo Quindi andiamo a prendere il basso col Fa Chi lo vedete nello schermo E' il più grave che posso andare a prendere Però ecco Per dare appunto enfasi Andiamo a prendere proprio questo Quindi facciamo così E la luna è una palla Ed il cielo un miliardo Da capo Quante stelle nel flipper Sono più di un miliardo Ok Marco dentro a un bar Chissà cosa farà Ma c'è qualcuno che arriva a una moto Si può andare in città D'accordo? Anche questo tutorial ragazzi Finisce qui Io spero che vi sia piaciuto E iscrivetevi al canale O mettete un like Grazie E iscrivetevi al canale